Perchè il passore sta fulgendo il ghiaccio? Perchè il passore sta fulgendo? Alla jubile gliuti Perchè il passore? Scusi lanternis fornò di noi avremo una volta il sede in giocino con Gimonia e da parte i familiari di una visione ai di noi a sopra i nuovi fierti per te fate verso Martini, Poharremi, Maramisi e da parte i primi fierti ad apportare un plaggio per te Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti